16 ottobre 2020 Non abbiate paura Dal Vangelo secondo Luca capitolo 12 In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli Guardatevi bene dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze Dico a voi, amici miei Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella genna Sì, ve lo dico Temete costui Cinque passeri non si vendono forse per due soldi Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati Non abbiate paura Valete più di molti passeri Davanti a migliaia di persone Gesù mette in guardia Tra i farisei Gli ipocriti Che fingendo culto a Dio Nascondono la volontà assassina Per imbavagliare la verità Dio è la verità Gesù è la parola di Dio È la verità proclamata agli uomini Dietro al velo che nasconde la realtà La verità splende sempre Essa può essere nascosta a noi Per i nostri limiti Ma in cielo i santi e gli angeli Tutti vedono ogni cosa Perché sono nella luce di Dio Solo su questa terra Noi ciechi Pensiamo che il resto delle creature intelligenti Sia cieco come noi E non veda la realtà spirituale dei cuori Le parole sussurrate E le macchinazioni segrete Non bisogna dunque farci trarre in inganno dagli ipocriti Che dai frutti si riconoscono Non dobbiamo temere quelli che fingono amicizia per Dio e per noi Ma in realtà vogliono la nostra morte Perché siamo da Dio Tutto verrà svelato Tutto sarà messo alla luce Il giudizio di Dio Incombe sull'umanità Sui nemici della Chiesa E sulla Chiesa Abitata dagli ipocriti Ma Gesù ci dice Anche di non lasciarci Contaminare dall'ipocrisia Accettandolo come una via normale di relazioni Poiché essa viene dal maligno Mentre il credente nel Dio vero Fa la verità Ed agisce con franchezza L'avvertimento dunque è quello di Non lasciarci corrompere dalla mentalità del mondo Ma essere testimoni della sincerità Sia invece il vostro parlare Sì, sì No, no Il lì più viene dal maligno Se il mondo va in tale direzione La nostra segue invece il Cristo, Gesù Sulla via della verità Che sale il calvario Poiché chi vive nella menzogna Deve uccidere la verità Il drago infernale Vomita dalla sua bocca un fiume di fango Fatto di tutte le menzogne miscelate Con la corruzione Di chi nella Chiesa Ha ceduto al peccato Ed alla ipocrisia Come sostanza in putrefazione Questi diventano il fango Gettato su tutta la massa dei credenti Dei piccoli Delle vittime per Cristo Che nel silenzio sorreggono L'edificio terreno della Chiesa di Cristo Essi sono come le colonne immerse nel fango Che sostengono la città edificata su di essa Se ancora esiste Se ancora non è sprofondata la città È perché costoro tengono con saldezza Vili pesi da tutti Forché da Dio La loro posizione Il loro appoggio solido sulla roccia Che è Cristo Bisogna temere Non chi, dunque Si appresta ad ucciderci Poiché il corpo comunque deve morire Ma chi vuole uccidere la nostra anima nell'inferno Questo avviene solo se Rimaniamo irretiti dal peccato Dalla corruzione del mondo Se il fango ci fa disperare Se l'ipocrisia viene scelta Come mezzo Per salvare la nostra vita Se la vigliaccheria ci fa rinnegare Cristo Temere questo dobbiamo La morte dell'anima Che abbandona la verità E la fede in Cristo Che si svende per salvare la pelle Per avere qualche vantaggio Per soppire le ansie e le preoccupazioni materiali Per avere la stima del mondo Che chiede Per poi ripagare con l'odio Non dobbiamo avere paura Poiché questa è l'arma del maligno Non dobbiamo cercare di salvare la nostra vita materiale Perché questo Ci farà perdere quella eterna Dobbiamo guardare in alto Avvolgere gli occhi al cielo Dove ci attende la patria vera Dove non c'è falsità E ipocrisia Dove la vita scorre insieme alla gioia Ed alla separazione di ogni male Il valore della nostra vita Lo conosce il padre Nessun uomo può salvarci Se non Dio Mediati il Cristo Che ha mostrato con coraggio La via da seguire Il mondo sferza Minaccia E uccide Ma se noi non pecchiamo L'accusatore Colui che accusa i nostri fratelli Giorno e notte Non potrà toccarci Perché è stato precipitato da Cristo Il maligno ci può trascinare con sé Solo se Siamo solidari con lui nel peccato Questo diventa l'accusa contro di noi davanti a Dio Ma noi possiamo lavare le nostre vesti nel sangue dell'agnello Ed essere vincitori con lui La fede in Gesù ci salverà Dio vi benedica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti